A partire dal 2019 una piccola era glaciale arriverà sulla Terra. Ma che cos'è una piccola era glaciale? Durante il 1700 è successa un'altra piccola era glaciale chiamata Minimo de Mounder. Una piccola era glaciale o Minimo de Mounder è causata da una bassissima attività solare. A partire dagli anni 2000 l'attività solare odierna sta veramente andando in declino. Ciò significa che nei prossimi anni l'attività solare sarà veramente al minimo. A partire dal ciclo solare 25. Ciò subiranno inverni estremamente freddi con temperature ben al di sotto dello zero. Quindi se voi pensate che il global warming o riscaldamento globale antropico sia una cosa vera, vi sbagliate di grosso perché siamo diretti verso una mini glaciazione anziché un riscaldamento antropico.